Dopo le polemiche che hanno investito il Movimento 5 Stelle sulla questione dei vaccini, tornano ancora una volta a chiarire la propria posizione e dicono noi non siamo contro, vogliamo solo che i genitori siano meglio informati. Non abbiamo ritrattato niente, la posizione del Movimento 5 Stelle l'abbiamo maturata in questi anni e noi siamo a favore della più alta possibile copertura vaccinale. La questione è come ottenerla. Ci sono due modi di vaccinare, due tipi di politiche vaccinali. Una è la modalità obbligatoria e l'altra è la modalità raccomandazione. Nei paesi dove vigono queste due modalità, addirittura spesso dove vige la modalità raccomandazione, le coperture sono più alte, guardiamo il caso Veneto. Dopo le polemiche sul controverso tema dei vaccini, il Movimento 5 Stelle chiarisce ancora una volta la propria posizione. Non siamo contro, dicono i pentastellati, ma stiamo lavorando affinché ci sia la maggior copertura possibile in Italia, lasciando libera scelta ai genitori. Nel nostro paese attualmente il sistema è misto. Sul tavolo dei grillini, già pronta una proposta per raggiungere, dicono, un sistema più semplice ed efficace, basandosi sulla raccomandazione e non sulla coercizione. Ci devono essere presidi sul territorio che accompagnano i genitori alla vaccinazione. Ci deve essere anche una modalità di informazione dei medici, che diventano gli intermediari tra le istituzioni e i genitori. Tutto questo con una clausola di salvaguardia, noi la chiamiamo così, nel caso di epidemie gravi, ovviamente poi lo Stato deve intervenire in maniera forte e importante.